Quindi si esibiscono il percorso della villa, questo salotto verde di San Cataldo che ci ospita, verranno allestiti degli stand e dei banchetti di hobbysti, artigiani, espositori di quadri, quindi ci saranno delle estemporanee, degli spazi dediti al relax, la cosiddetta area relax e i giochi per i bambini. Perché abbiamo voluto creare uno spazio che accogliesse tutte le fasce della società, dai giovani alle famiglie, è giusto puntualizzarlo, non è l'evento per i giovani che vogliono soltanto divertirsi, ma è uno spazio che deve tenere dentro tutti e che sia accogliente per tutti. Si dà i bambini alle settantenne, che si beve la birrozza, si mangia un pezzo di salsiccia. E soprattutto che sappia gustare, visto che si parla di mangiare, di cibo, che sappia gustare l'arte del nostro territorio, della nostra bella Sicilia, perché diciamo quello che mettiamo in campo è la sicilianità, vogliamo promuovere la sicilianità e il nostro territorio, San Cataldo soprattutto. Ci sono sempre stati degli eventi però importanti durante il Sasizza Village, cioè artisti che si sono esibiti anche con successo. Tra poco torneremo a parlare proprio della edizione di quest'anno del Sasizza Village, 24, 25 e 26 luglio. Quindi un bel fine settimana che si trascorrerà alla villa comunale di San Cataldo. Però adesso, visto che abbiamo cominciato parlando di un nome strano, Sasizza Village, continuiamo parlando di un nome altrettanto strano, che è il nome dell'associazione che promuove questa manifestazione. Un altro nome è strano, Straula. Che vuol dire Straula? Chi è che vuole... Alfonso, tu non parli. No, le cose strane le dico io. Milingo, cos'è? Fabio è Milingo. Uno che parla e l'altro che invece fa i gesti. Che non si vedono in radio. Ah no, ma c'è la webcam e quindi si vede. Ah, c'è la webcam. Sì, sì, sì. Ciao. Le cose strane quindi le descrivo io. Lui è quello serio. Ecco, lui è quello serio. Straula. Straula, forse neanch'io, diciamo, ho mai visto una straula. Però mi è stato raccontato che la straula era un antico mezzo di trasporto che veniva utilizzato nelle campagne per trainare, con la spinta degli buoi, il grano, la paglia, tutto ciò che produceva la campagna. Questo per dire che, essendo che noi siamo un po' tradizionalisti, per questo facciamo gli eventi che esprimono cultura da ogni punto di vista, cerchiamo di, per mezzo di questo mezzo di trasporto antico, trainiamo verso i giorni nostri le vecchie tradizioni per farli conoscere ai nuovi giovani. E così abbiamo fatto conoscere Alfonso Capraro, l'Esta Sizza Village, il 25 aprile, i nostri cineforum, le nostre iniziative di piantumazione degli alberi al Parco Achille Caruso. Tutti eventi meravigliosi. Sì. Involgono... Ha parlato. Il lingue ha parlato. Sto utilizzando la straula per portarmi Alfonso Capraro in diretta. Io ho avuto a che fare con loro per qualche evento e sono eventi veramente belli. Sì. Sono caratterizzati comunque dallo spirito di stare tutti insieme, facciamo qualcosa tutti insieme, nel sociale quello del 25 aprile è stato meraviglioso. Cosa è accaduto il 25 aprile? Cosa avete fatto? Il 25 aprile è stato meraviglioso, abbiamo fatto una mega barbecue per 500 amici. Eravamo più di 700 in realtà. La prima edizione abbiamo calcolato 500 incressi e quest'anno, l'edizione del 2015, abbiamo calcolato 700 incressi. E dove si è svolta? È un evento che si svolge all'interno della struttura che gestisce l'associazione Progetto di Vita. Un'altra associazione di promozione sociale, Onlus, e assieme a loro organizziamo quest'altro evento, il 25 aprile, che è un evento che ha anche questo un impatto culturale. Si parla di resistenza, chiaramente. È giusto far conoscere ai giovani da dove veniamo, da dove proveniamo e perché, per esempio, noi viviamo in democrazia, altri nel mondo non hanno la fortuna di vivere in uno stato democratico. Credo che sia molto importante capire cosa è la democrazia, anche per tenersela stretta, visto e considerato che ormai arrivano da più parti tante minacce alla democrazia. Assolutamente sì. Sono, come vedi, eventi che hanno un'impronta sociale, culturale. Assolutamente sì. Allora, l'associazione Straula organizza, fra l'altro, abbiamo già parlato di qualche altro evento, il Sasizza Village a 24, 25 e 26 luglio, la nuova edizione, fine settimana alla Villa Comunale. Bene, allora, nello specifico, per questa edizione, cosa avete preparato? Allora, cosa abbiamo preparato? La non edizione del Sasizza Village si afferma nella sua composizione, che oramai è standard da nove anni, però con mille sacrifici, perché comunque si tratta di un'associazione di promozione sociale, sappiamo come vivono, con quali risorse vivono le associazioni, cerchiamo in un certo qual senso di estendere questo evento, questo tipo di evento. Per questo motivo stiamo cercando di coprire l'intero percorso della Villa Comunale, incrementando le esposizioni artistiche degli artigiani, la novità sarà anche l'estensione dell'aria relax e la cosa più importante è che ci teniamo a dirlo, del quale siamo orgogliosi, quest'anno abbiamo fatto un investimento maggiore, abbiamo portato, porteremo a San Cataldo la band dei Folk a Bestia, è un nome abbastanza importante. Nello scenario della musica folk sono un gruppo abbastanza noto, è una band pugliese che annoverà mille collaborazioni con artisti di una certa notorietà, tra cui la banda Bardot, Modena City Ramblers e così via. Mi sembra giusto ringraziare però tutti quelli che ci hanno dato il soldino quando ci vedono la sera al bar. Assolutamente, ma infatti Alfonso è qui per questo motivo, perché lui ci ha aiutato nei pre-Stasizza, dobbiamo dirla tutta, l'Stasizza non è un evento che si costruisce così dall'oggi al domani, è un evento che viene sostenuto dal basso, diciamo che è un esperimento il Stasizza Village, a tutti gli effetti, è un evento che si autofinanzia, quando Alfonso dice il soldino al bar è perché noi nei bar teniamo il salvadanaio. Ah ecco, bello. Anzi, ringrazio l'amico mio Aldo Remondi per la collaborazione che ci lega, quando andiamo a raccogliere un po' di soldini. Un po' di soldini che poi servono, perché voglio dire una band come questa, costano un sacco, costano dei bei soldini, quindi insomma è chiaro che bisogna da qualche parte reperire. L'amministrazione comunale? A noi, quest'anno ci sostengono diverse amministrazioni, è chiaro che ringraziamo l'amministrazione del nostro comune, perché è quella che ci elargisce più servizi in quanto gioca in casa, no? Certo. E quindi il ringraziamento va all'amministrazione del comune di San Cataldo. Però, tornando al discorso che è una realtà che va crescendo e che comincia ad avere una certa notorietà in provincia e oltre, siamo riusciti ad ottenere il patrocinio gratuito, perché per il semplice motivo che comunque le altre amministrazioni vedono come fiore all'occhiello il Stasizza Village. Abbiamo ottenuto il patrocinio del comune di Caltanissetta, che ringraziamo, il comune di Canigazzi, che vogliamo ringraziare, Leonforte e Palagonia. Sono quattro realtà istituzionali che comunque vedono di buon occhio questo evento che nasce dalla spinta propulsiva di giovani, di ventenni e trentenni. Sì, Fabio, perdona la mia ignoranza, allora, San Cataldo so dov'è, Caltanissetta anche, Canigatti, ci arrivo, ma Palagonia dove si trova? Palagonia in provincia di Catania, per dire, arriviamo pure lì. In quale zona esattamente? Cioè vicino a Catania, nell'entroterra? Non so dove sia onestamente. Sinceramente? Non lo sai neanche tu. Non lo sai neanche tu. Non so geograficamente dove è posizionata. Penso nell'entroterra. Penso, penso. Non so, bene. Va bene, va bene. Alfonso, questa domanda devi rispondere a tu. No, 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 io... Sì a Stemio, passi, sei a Stemio. E allora, ma quando si esibirà la formazione pugliese? I Folcabessi alle 25, sabato 25 luglio. Sabato 25, benissimo, quindi sarà un appuntamento assolutamente importante. E allora, sarà un'atmosfera di festa per tutti e tre i giorni. Quando aprirà? Aprirà tutto il giorno o ci sono degli orari di apertura? L'evento si svolge prettamente nella parte tardo-pomeridiana fino a quando si esaurisce, quindi alla notte, finché la gente vuole stare lì dentro. Quindi da tardo pomeriggio fino a sera. Ok. Chiaramente, oltre ai Folcabessi, è giusto dire che si esibiranno degli altri gruppi, tra cui Dappi Rockers, il 24, che saranno coloro i quali apriranno la manifestazione, e si chiuderà in bellezza con il nostro conterraneo e artista Sergio Zafarana, nonché amico, Sergio Zafarana, con il suo progetto Zafaral, il suo nuovo progetto. Quindi è anche uno spazio per i nostri artisti, per far conoscere la nostra arte del territorio. Mi piace, mi piace. È un appuntamento ormai tradizionale dell'estate sancataldese, che però, per quello che ci raccontate, ha oltrepassato i limiti angusti dello spazio comunale per essere e per diventare un evento riconosciuto anche in provincia e anche fuori, anche nel comune di Palagonia, che prima o poi andremo a trovare. Lo troveremo prima o poi. Ci andremo, ci andiamo insieme. Ci andremo insieme. Avete mai misurato il numero di visitatori, così in maniera approssimativa, che nelle varie edizioni della Sizzavilla già hanno animato la villa comunale? Assolutamente sì. Alfonso, diglielo tu quanta salsiccia prendiamo. Parecchia. Noi questo calcolo ce lo facciamo per mezzo della salsiccia che sforniamo. A cadruzzo. A cadruzzo. In unità di misura. E c'è lui. Ho capito. Nel senso, abbiamo stimato che la salsiccia che prendiamo sono circa 500 kg. Ah, però. Facendoci un calcolo di consumazione che va su circa oltre i mille panini, quindi tra quelli che consumano e le persone che affollano la villa, abbiamo stimato una presenza di circa 3.000 persone a serata. Tra quelli che restano e ballano sotto il palco, quelli che mangiano il panino e vanno via, quelli che si spostano e vanno nel corso a farsi la passeggiatina, si crea un bel circuito che in un certo qual senso diventa anche una risorsa per i privati, per le attività commerciali che ci sono a San Cataldo, perché consumano il panino, poi vanno a mangiare il gelato, passano al parco giochi con le famiglie a far giocare i bambini. Comunque è una realtà che dà un minimo di respiro alle attività commerciali del posto. Domanda, ma avete già fatto l'acquisto di salsiccia? 500 kg? Sì, 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 già è in produzione. Abbiamo pure fatto un video e c'è il nostro amico Giancarlo Urso che è già lì pronto a macinare. No, io mi candidavo a fare il macellaio in questa occasione, a fare l'affare, perché 500 kg di salsiccia, mamma mia, sono tanti, considerando anche chissà quanta birra se andrà. Ecco, lì, attenzione, però consumate con moderazione, perché poi lo 0,51 significa ritiro della pateria, quindi quando bevete, per carità, bere è sano, è bello, non guidate, ecco, non guidate, altrimenti insomma la situazione diventa complicata da gestire. Posso dire un'ulteriore cosa? Perché è importante dare questo tipo di messaggi, oltre a essere responsabili nelle bere e nella guida, bisogna anche essere responsabili quando si costruiscono questo tipo di eventi, che devono essere eventi a impatto zero. Noi una cosa importante che facciamo è la raccolta differenziata all'interno della villa, durante il Stasizza Village, quindi invitiamo già da adesso tutti i partecipanti a consumare sì, ma poi ad attenersi a fare la raccolta differenziata, quindi consumare la birra e buttare il bicchiere di plastica nella raccolta della plastica, piuttosto che il vetro o la lattina. Ecco, e vi invito anche a non consumare troppa salsiccia, perché altrimenti gli altri rimangono senza. E poi vi vengono dei problemi allo stomaco, perché troppa salsiccia fa male. Date insomma anche agli altri la possibilità di consumare. 500 kg di salsiccia sono un'enormità. Fatemi capire quanto spazio fisico occupa. Un quantitativo del genere, cioè è una mezza tonnellata di salsiccia. Sì, consiglia che noi ogni giorno riempiamo un frigorifero abbastanza grande. Quindi chiaramente non sono 500 kg ogni giorno, relazionati nei tre giorni, perché va bene abbiamo Alfonso Capraro. E tu Alfonso da solo quanta te ne fai? Io guarda, saprei tutto 5-6 panini me li mangio. 5-6 panini, insomma. Possiamo dare un contributo a queste cose. Ma certo, ma starai lì ai fornelli tu? Non lo so, non lo so, vediamo, vediamo. Tu mangi? Sì, io faccio diciamo il degustatore. Ah ecco il degustatore. Se lui ha ruoli di finezza. Il controllo qualità mi piace. Ragazzi, è un evento assolutamente bello quello che organizzate ormai dal 2006. Dal 2006, questa è la nona edizione. Oh però, mi piace. È iniziato tutto per gioco, devo dire. Nel 2006 fu la festa dell'associazione, eravamo qualche centinaio di ragazzi, ci divertivamo, venivamo visti non di buon occhio, perché chi sono questi pazzi lì alla villa che ballano? Un po' alternativi. Un po' alternativi, chi senza capelli come Alfonso, chi con... Ah guarda, i senza capelli sono fantastici. Sì, effettivamente manchi tu, manchi tu. Ecco, ecco, ecco. Poi abbiamo anche quelli, i capelloni, quelli con i capelli ricci, dread, cioè tutta questa gente strana, i panca bestia. Poi abbiamo, cioè, ora siamo arrivati alla nona edizione, che abbiamo i folk a bestia. E' perché vogliamo tenere dentro anche le famiglie, quindi la musica salentina, la tarantella e quant'altro. Quest'anno ci divertiremo, ci divertiremo. E noi vogliamo dire una cosa, visto che si tratta di promozione del territorio. In questo momento la promozione dell'Italia viene fatta per mezzo dell'Expo. Non so se avete visto il logo del 2015, l'edizione 2015 del Stasizza Village. viene coniata l'immagine e l'Expo. Noi l'abbiamo trasportato scrivendogli Stasizza Village. Ma diciamo di più, chi c'ha di affà all'Expo? Scino Stasizza Village e promuoviamo la nostra bella terra. E questo è il senso della manifestazione e questo è lo spot di quest'anno. Sottoscrivo. Chi c'ha di affà all'Expo? E per questo vorrei fare un ringraziamento, se mi lo concedi, a Claudio Di Forti, che è il nostro grafico che ha realizzato tutte le grafiche dell'evento. Come vedi, tutto viene fatto in casa. Ci sono dei ragazzi che mettono a disposizione le loro competenze e le proprie capacità. Ecco, va anche sottolineato che non si tratta di un evento realizzato a scopo di lucro. No, assolutamente. Puntualizziamolo. Si tratta di energie che vengono messe a disposizione della comunità per l'intrattenimento, per il divertimento, per l'aggregazione, per il godimento, no? Anche degli spazi cittadini, una villa comunale che per tre giorni diventa uno spazio comune dove tutti possono divertirsi, mangiare, bere, acquistare dei prodotti, ascoltare della musica. Insomma, quindi sottolineare questo aspetto è molto importante. Assolutamente sì. Noi diciamo che la Stasizza Village è una risorsa per il territorio. Noi l'anno scorso abbiamo fatto un articolo proprio su questo aspetto perché parte del ricavato dei proventi della vendita del panino piuttosto che della birra più che proventi sottolineare sottoscrizioni perché anche su questo aspetto sono contributi anche di basso costo. E parte di questo ricavato è servito per la realizzazione della piantumazione di 600 alberi al Parco Achille Carusi che è un'altra area di San Catalto nel quale abbiamo realizzato questo progetto con le scuole con i bambini che si sono prodigati a piantare querce carrubbi bagolari facciamo in modo che ciò che viene dato dal territorio con queste sottoscrizioni vengono ridate alla nostra comunità cercando di rendere bella la nostra San Catalto e così abbiamo fatto questo evento. Fate attenzione però non dite troppo spesso dove si trovano questi giovani alberelli perché poi arriva quell'azienda che sta nell'ennese che vi trancia tutti gli alberi come sta facendo a Gabara in altre zone insomma ci stanno disboscando l'intera provincia e l'intera Sicilia centrale è una lotta impari quasi cioè scagliarsi contro queste multinazionali che vedono soltanto profitto nel nostro piccolo facciamo quello che possiamo noi siamo ragazzi attende a queste tematiche ci proviamo se mai dovessero venire lì saremo pronti a fare le barricate assolutamente sarei con noi assolutamente sì guarda io con le multinazionali ho proprio un conto in sospeso non mi stanno simpatiche penso che laddove ci sono le multinazionali c'è in maniera assolutamente chiara e conseguenziale lo sfruttamento indiscriminato delle risorse quelle naturali ma anche dell'uomo e questo francamente insomma non lo accetto non mi piace non lo accetterò mai quindi al limite insomma chiamata raccolta la popolazione stiamo lì a difendere gli alberelli sono alti quanto no ancora sono delle piccole piante sono delle pianticelle sono cresciute in realtà si vede che è da tanto che non scende lui mangia le salsicce lui mangia le salsicce noi piantiamo ma il controllo qualità controllo qualità quindi devi scendere anche a guardare la qualità della pianta perché sono cresciute sono piantine cioè perlomeno quando le abbiamo messe a dimora erano di 20-30 cm e anche qualcuna di 50 cm in realtà ora sono cresciute perché comunque è stato un bell'inverno abbastanza piovoso sono cresciute abbiamo preferito le piante piccole perché attecchiscono con più facilità anche se sono da curare con più attenzione ottimo ottimo quindi mi piace anche questa serie di iniziative e questo impegno a reinvestire nel territorio ciò che si ricava da una manifestazione come il Sassizza Village ragazzi siamo quasi al termine di questa nostra chiacchierata intanto in bocca al lupo ovviamente per l'edizione del 2015 il 24 il 25 il 26 luglio alla villa comunale di San Cataldo Sassizza Village e ci sarà veramente da divertirsi oltre che da mangiare ma date un'occhiata ad Alfonso Capraro perché dove sarà lui ci sarà la salsiccia e la qualità e la qualità ecco ragazzi ma io ne approfitto per chiedervi in che altro modo la vostra associazione quest'anno dopo il Sassizza Village sarà presente nel territorio quali altre iniziative state sfornando avete ideato state per realizzare allora per sfornare ci pensa sempre sempre Alfonso la cui mole testimonia peraltro la vocazione quanti quanti 98 pensavo di meno ci può uscire un bel po' di salsiccia ma appunto stai attendo Alfonso e tra le tante altre iniziative sicuramente ripeteremo quelle già consolidate il 15 ciò significa il 25 aprile il l'Essasizza Village edizione 2016 ciò che ci siamo promessi e forse stiamo facendo anche stiamo in certo qual senso sfidando il nostro sindaco ma sono sicuro che accoglierà con piacere vorremmo la facciamo in diretta questa proposta una parte delle risorse del Sassizza Village se tutto va bene perché comunque noi ci esponiamo a un rischio ovvero ricoprire innanzitutto le spese da sostenere ancora e se mai dovesse restare qualche risorsa vorremmo realizzare sempre nella parte in questione dove sono state piandate le querce uno spazio dedito allo sgambettamento quindi lo sgambettamento è un'area dove gli animali i nostri i cagnolini i nostri amici a quattro zambe possono felicemente essere lasciati liberi perché sono controllati fare i loro bisognini dove poi il padrone va a recuperarli per andarle a buttare negli appositi cestini e quindi essere lasciati in libertà sempre in questa zona che è presenta un'area già alberata con alberi di una certa grandezza questa era un'idea che noi avevamo che sottoporremo al sindaco in questo punto la facciamo in diretta sono sicuro che accoglierà braccia aperte assolutamente sì un'area sgambettamento ed evacuazione in realtà la devo dire tutta la stiamo facendo per Alfonso un amico per te ci vorrà voglio dire considerando la quantità di salsicce che mangerai occuperai l'area sgambettamento per dei giorni per delle settimane ti farai sapere pubblicala su facebook e condividila va bene no bella questa iniziativa insomma gli amici a quattro zampe meritano grande attenzione ci accompagnano e sono sempre sono buoni sì assolutamente qualche randaggio che ogni tanto insomma perde la testolina beh non è colpevole bisognerebbe insomma fare in modo che non diventi o che non sia un randaggio assolutamente questo va precisato ecco e a proposito della iniziativa quando volete ecco anche dopo il Sassizza Village se questa vostra proposta avrà incontrato il placet l'ok dell'amministrazione comunale di San Cataldo venite qui in radio ne parliamo insieme così insomma la spieghiamo alla cittadinanza nei vari termini nelle varie situazioni va bene benissimo e allora ragazzi le 11.58 minuti noi stiamo per salutarci Alfonso io vorrei ricordare a tutti gli amici sangataltesi che in questo fine settimana vi verremo a stressare con i salvalenai contribuite ah ecco perché dal cielo non cade niente dal cielo non cade niente quindi invitiamo tutti i giovani che vanno al bar e prendono una birretta a 3 euro anche non dico 2 euro ma un euro me lo volete dare ecco posso credere come tattavango un euro va bene Alfonso e le sue perle di Sanchez mi lingo mi lingo va bene allora io ringrazio ovviamente Fabio Bonsignore e Alfonso Capraro per questa mezz'oretta nella quale abbiamo parlato grazie a voi della Salsizza Village 24 25 26 luglio alla Villa Comunale di San Cataldo e dell'Associazione Straula ragazzi in bocca al lupo mi raccomando e lasciate un po' di salsiccia anche per me mi raccomando ti aspettiamo ciao ragazzi ciao ricarica la giornata con noi www.radiocl1.it 3462343758